Nell'oggetto chiamato, i nuovi media mi pare troppo riduttivo, diciamo un universo informatico, un universo digitale, non c'è niente di scientificamente nuovo, ma soltanto degli perfezionamenti tecnologici. C'è solo un perfezionamento, una maggiore rapidità, e quindi degli effetti diversi sugli utenti. Cosa ha da dire dunque una scienza delle comunicazioni sulla natura semiotica di questi fenomeni? Praticamente niente, non sono che accelerazioni tecnologiche di procedimenti normali. Io ho sempre sostenuto due cose fondamentali. Primo, che la semiotica non è una scienza. E se non è una scienza, la semiotica figuratevi le scienze della comunicazione. Si fanno delle teorie immense usando uno strumentario di estrema povertà. Quindi, chi è che può fare una nuova teoria, la teoria dei nuovi media? Non lo so. In ogni caso, non i teorici specializzati dei nuovi media che godono di un'ignoranzio elenchi favolosa e fondamentale.